Bentornati al nostro appuntamento. Oggi parleremo di un argomento che interessa i nostri ascoltatori pensionati. Come voi sapete c'è stato un aumento pensionistico previsto dalla legge di bilanzo e possiamo vedere come si svolge questa che viene chiamata per equazione. Vediamo bene insieme cos'è. La rivalutazione delle pensioni è fatta apposta per adeguare le pensioni all'inflazione e al costo della vita sulla base di un indice che viene stabilito appunto dall'Istat. Questo meccanismo prende nome per equazioni. Spetta sia le pensioni dirette, cioè quelle che sono le pensioni a carico del pensionato, sia quelle indirette, cioè per i superstiti e riguarda anche quelle che sono delle pensioni integrate al trattamento minimo. Vediamo quali sono le soglie previste per quest'anno. Per quest'anno la soglia è stata prevista all'1,1%. Tuttavia nella legge di bilancio è stata stabilita anche una diversa graduazione sulla base di quello che è l'importo lordo delle pensioni, cioè fino a tre volte il trattamento minimo, cioè 1.539 euro, ci sarà la rivalutazione piena all'1,1. Poi man mano che l'importo, come vedete nella tabella, va a crescere, la rivalutazione sarà decrescente, quindi dal 97% fino al 40% per quell'importo superiore ai 4.600 euro lordi mensili. Che cosa dobbiamo dire? Che l'Inps non ha potuto adeguare già dal mese di gennaio quelle che sono le pensioni. In realtà, visto che c'era la precedente normativa che prevedeva l'adeguamento pieno per tutte le pensioni, la rata di gennaio emessa già nel mese di novembre 2018, quindi prima della legge di bilancio, ha previsto già degli incrementi che sono quelli precedenti. Verrà emanata una circolare di prossima pubblicazione che applicherà l'incremento corretto a tutte le pensioni, quindi l'importo che i pensionati hanno trovato nel mese di gennaio, non è quello dell'incremento effettivo che spetta loro. Vediamo ad esempio quale sarà l'importo effettivo. Abbiamo previsto su questo schema degli importi orientativi, quindi abbiamo per un importo da 800, 1000, ma abbiamo detto fino a 1500 euro, l'adeguamento è sempre dell'1,1% e quindi ci sarà un adeguamento da 8,80 euro mensili fino a 16,50 euro mensili. Mentre, come dicevamo, a salire, quindi per importi lordi mensili di 2000, 2005 o 3000 euro, avremo un incremento che per 2000 lordi è di circa l'1% fino ad arrivare lo 0,57 per pensioni di 3000 euro, quindi come vedete l'importo a quel punto diventa decrescente, cioè una pensione di 2000 euro avrà un incremento di 17 euro, mentre una pensione superiore ha un incremento inferiore. Vi ringrazio per averci ascoltato anche questa giornata e vi rimando al prossimo appuntamento.